Radioterapia sono giorni molto importanti, dottoressa Borghesi, perché alle sue spalle c'è il bunker dell'acceleratore, adesso sono due nuovissimi di nuova generazione, comprati con i soldi del PNRR, vanno messi in funzione. Sono iniziati i lavori di ammodernamento tecnologico e strutturale della radioterapia di Arezzo. Questa si inserisce all'interno di un grosso progetto di ammodernamento di tutto l'ospedale e per quanto riguarda la radioterapia, grazie anche ai fondi del PNRR, saranno cambiati in successione i due acceleratori lineari, cioè le due macchine che eseguono i trattamenti di radioterapia. La radioterapia continuerà a lavorare, quindi i pazienti verranno comunque trattati ad uno dei due acceleratori lineari presenti qui ad Arezzo, che rimarrà in funzione, mentre l'altro è oggetto di ammodernamento tecnologico. Grazie a questa grossa opportunità, a questo grosso investimento che riguarda l'ospedale di Arezzo, avremo la possibilità di trattare i pazienti con una tecnologia sicuramente migliore, faremo dei trattamenti ancora più precisi, che riescono a trattare in maniera più mirata il tumore, risparmiando maggiormente, ancora di più rispetto ad ora, quelli che sono gli organi sani e adiacenti. I trattamenti saranno anche più rapidi e consentiranno anche per il paziente di avere un miglior comfort rispetto alle tecnologie esistente finora, che è attualmente in sostituzione.